e allora ci siamo grazie grazie auguri a tutti voi grazie 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 un applauso via un applauso pensate che io mi do solo un'età partiamo dai 32 al 68 anni ecco erano 17 levi ed è giusto che in questa occasione questo anniversario quest'anno di anniversario 35esimo è importante perché non canto una canzone ma non escono le ragazze un minuto uno stacco canta lei poi escono le ragazze per il finale della premiazione va vi faccio ascoltare il brano hit dell'estate allora ciao posso fare una foto con te ha vinto il punto del principe ciao da me giuseppe caudensi con certa pure c'è sopra ciao da me giuseppe e concetta caudensi ciao